in questo mondo atroce che vive di cervelli io col cuore in questo mondo ancora dove è detto in numeri umanità e in questo tempo del teore io col cuore dove si cade sotto colpi di pugnale e di contabilità in questa terra dei delitti io col cuore dove la vita viene pagata a tempo e la qualità a chilo in questa terra senza più fiori io col cuore e ricordo in l'andaranza due lacrime qualche sorriso e mangiare per strada io col cuore dove due persone fanno un letto matrimoniale un bambino una scuola un malato un sociologo io col cuore ancora per quanto